Scusate un attimo, ti interrompo perché abbiamo scoperto una roba agghiacciante, davvero agghiacciante. Il signor Fabio Alisei vende i suoi prodotti schifosi per deodorarsi attraverso una linea telefonica a pagamento utilizzando il marchio dello Zodicino. Ma non è vero! Ma come sta? Non è zitt che abbiamo i documenti in mano. Abbiamo tutte le prove del mondo, Arnold ha registrato tutto. Ma cosa c'hai? Cioè, è una falsità grossa come la faccia di leone. Fai il suo numero di casa, Arnold, grazie. Adesso senti. Cosa sento? Vedrai, vedrai. Infatti non risponde nessuno perché sono qua. Ciao, risponde la segreteria telefonica della Fabio Alisei SRL. Premi il tasto a forma di ascella sulla tua tastiera per accedere al menu principale. Schiaccia. Benvenuto nel fantastico mondo di Fabio Alisei. Lo stilista genovese che in pochi mesi si è affermato nel mondo grazie alla sua formidabile invenzione. Il nuovo profumo Odia Shell. Il primo profumo che non devi spruzzare né spalmare. Ti basterà non lavare le tue ascelle per tre settimane e l'essenza crescerà di giorno in giorno. Per ordinare l'opuscolo con tutte le istruzioni per puzzare come Fabio Alisei, premi il tasto 1. Non è vero. Per proseguire, premi il tasto a forma di puzza. I prodotti di Fabio Alisei sono tutti naturali e coperti di garanzia, soddisfatti o rimborsati. Prova il nuovo deodorante per piedi Piede Sporche. Ti basterà girare per tutta Milano con un paio di sandali studiati dallo stilista per ottenere un'incredibile essenza di gorgonzola misto merda di opposto. Piede Sporche. In offerta a soli 45 euro. E da questa settimana prova il formidabile gel per capelli Non Lu Compro. Il rivoluzionario gel per capelli che non si vede. Ti basterà non comprare nessun tipo di gel per ottenere quella pettinatura da appena alzato dal letto, come lo stilista stesso. Non Lu Compro in offerta a soli 34 euro. Fabio Alisei, il nuovo modo di curare il tuo corpo. Sei una vergogna. Ma non è vero. È uno scandalo. Ma non è vero. Meno male che mi hai fregato la ditta, perché prima lo dicevano su di me. Adesso sei tu che puzzi. Bastardo. Io non puzzo, non è vero. E chi dice il contrario puzza più di me. Ma cos'è, è un gioco. Ma che ho riflesso. Le tre e tre minuti.